Ortigia a pallannuoto, Cristian Napolitano sulla decisione LEN relativamente alla partita di andata di Euro Cup. Tra i tifosi dell'Ortigia e non solo, gli sportivi e gli addetti ai lavori si discuta ancora della decisione assunta dalla LEN e mai comunicata ufficialmente alla società bianco-verde, di assegnare al team di Piccardo la sconfitta per 10-0 a tavolino nella semifinale di andata di Euro Cup contro il Telemar. La LEN ha parlato di scelta compiuta sulla base della documentazione ricevuta senza chiarire le ragioni e soprattutto senza spiegare cosa di quella documentazione non andasse bene. L'Ortigia ha preparato il ricorso e ha chiesto alla LEN tutta una serie di informazioni sulla regolarità della decisione mentre sui social arriva da più parti l'indignazione per un provvedimento che punisce prima di tutto la pallannuoto e la credibilità delle sue istituzioni europee. In tutto questo quelli che sicuramente hanno subito il colpo più duro sono stati i giocatori che hanno preferito non parlare e non rilasciare dichiarazioni nell'attesa che la società facesse le proprie comunicazioni e assumesse le proprie decisioni ufficiali. Oggi invece in una intervista sul sito dell'Ortigia a parlare a nome della squadra del capitano Cristian Napolitano. Questa decisione esordisce il centro boa bianco-verde e ci ha colpito un po' alla sprovvista. Ci ha colpito molto nel morale perché comunque lavoriamo per un obiettivo tutto l'anno e poi subiamo una decisione come questa con un 10-0 a tavolino e la necessità di recuperare vincendo 11-0. Impresa fisicamente impossibile. Abbiamo preso molto male la notizia però la stagione è ancora lunga. Adesso c'è solo da lavorare a testa bassa e rimboccarsi le maniche alla squadra. Ho detto proprio questo. Siccome l'ho vissuta già questa situazione, anzi l'abbiamo vissuta in molti nel 2020 quando per il Covid sono state cancellate le competizioni con noi già in finale di Euro Cup. L'unica soluzione per noi ora è quella di pensare a lavorare sempre di più per arrivare a raggiungere altri obiettivi. Vuol dire che ci sono cose ancora più grandi che ci aspettano. Noi giocatori continuano il capitano. Non abbiamo altra scelta. Possiamo solo andare avanti con la solita professionalità. Certo il morale è quello che è perché da due anni ci tolgono questa dannata coppa. Io non so se l'anno prossimo avrò la possibilità di rigiocarla o se altri miei compagni avranno l'opportunità di fare altrettanto. Visto che molti siamo a fine carriera. Personalmente posso dire da giocatore che andare avanti così non ha senso. Noi atleti abbiamo degli obiettivi per i quali lavoriamo duramente facendo sacrifici mentre quelli che decidono queste cose forse non sono mai stati atleti. Secondo me sono più dei segretari, dei burocrati che stanno seduti sulle loro poltrone e non sanno nemmeno se c'è l'acqua in piscina o forse neanche come è fatta una piscina. Purtroppo noi siamo quelli che vengono danneggiati da questa decisione e possiamo rispondere solo lavorando più forte. Per Napolitano il provvedimento della Lenne non danneggia solo l'ortigia. Questa scelta ferma fa molto male soprattutto alla pallannuoto. Tanti giocatori di altre squadre ci hanno scritto indignati definendo questa cosa una schifezza. Io da sportivo posso dire che non mi piacerebbe vincere una partita in questo modo perché le partite si giocano sul campo e lì poi ha la meglio chi è più forte. Non troverei stimoli a vincere a tavolino. Sarebbe da perdente. Sarebbe un segno di debolezza. Preferisco sempre giocarmela, poi festeggiare se vinco, applaudire e stringere la mano agli avversari se sono più forti e vincono loro. Molti sui social ritengono che il Telemar avrebbe potuto chiedere alla Lenne di rinviare il match rifiutando la vittoria d'ufficio. Capitano Biancoverdi non commenta le scelte degli avversari. Non entro nella testa dell'altra società. Non mi interessa dire cosa avrei fatto io se fossi stato al posto loro. Noi guardiamo sempre solo a noi stessi. Andiamo avanti, lavoriamo duro perché fisicamente è un'impresa impossibile rimantare. Vedremo cosa accadrà. Per ora c'è solo da fare silenzio e allenarsi. Dobbiamo pensare solo a giocare. Abbiamo il campionato della Coppa Italia. Per quanto riguarda l'Euro Cup, al ritorno di sicura daremo un segnale forte. Non aggiungo altro. Infine, sulla possibilità che il ricorso presentato dall'Ortigia vada a buon fine, il centro buo a Siracusano è laconico. Il ricorso, secondo me, non cambierà le cose perché loro non sconfesseranno mai la loro decisione, anche se è sbagliata.